Vasco Rossi Vasco Rossi, t-shirt per Modena Park e incontro con il fan club L'amore per Vasco Rossi dopo Modena Park non si ferma più, a brevissimo una t-shirt celebrativa dell'evento e l'incontro con il fan club ufficiale a Bologna. Ecco tutti i dettagli su come partecipare all'evento esclusivo Vasco Rossi incontra i fan a Bologna, ci sarà anche la t-shirt di Modena Park Ciò che è successo tre mesi fa, precisamente il primo luglio 2017, appartiene di diritto alla storia della musica mondiale, il Vasco Rossi Modena Park è stato un concerto eccezionale, da record, e i fan presenti all'evento non potranno mai dimenticare quell'emozione provata al parco Ferrari, tra oltre 230.000 cuori pulsanti. E ora, tra circa due settimane, il Vasco sarà di nuovo vicinissimo ai suoi fan, con un incontro esclusivo riservato agli iscritti del Blasco Fan Club, per i quali il rocker di Zocca aveva concesso un prequel del grande concerto di Modena Park, regalando loro il sound cap generale. Per il 18 di ottobre, però, ci sono regole piuttosto precise per poter essere tra i beati eletti che incontreranno Vasco in una città molto cara al cantante, distante pochissimi chilometri dalla sua terra d'origine, Bologna. Per l'occasione, il Fan Club ha realizzato delle t-shirt celebrative dedicate alla meraviglia di Modena Park. Sulla parte anteriore, si staglia un'iconica immagine del rocker, circondato dalla carica dei 230.000, e, sul retro, appare l'elenco degli oltre 40 brani eseguiti quel giorno sul palco. Come fare a partecipare al settimo meeting con Rossi? Innanzitutto, come spiega a chiare lettere il post condiviso su Facebook, è necessario essere iscritti al Blasco Fan Club, con abbonamento valido e aggiornato. Non solo, chi ha già partecipato ai sei incontri precedenti, visto che la fila di aspiranti sarà lunghissima, non potrà candidarsi nuovamente a questo momento carico di emozioni, a pochi passi dal proprio beniamino. Infine, ecco il dettaglio più importante, il profilo ufficiale su Facebook lancia un contest, l'unico modo per potersi aggiudicare il pass per l'incontro con Vasco. Cosa bisogna fare per vincerlo? Partecipare al settimo incontro di Vasco con i fan, il contest. Visto che saranno in tanti, troppi, a voler vedere e ammirare da vicino Vasco Rossi e dopo Modena Park ancora di più il fan club ufficiale ha deciso di proporre un contest ai propri iscritti, che permetterà di decretare chi potrà incontrare il rocker il 18 ottobre a Bologna. In cosa consiste? Su Facebook si legge che gli aspiranti dovranno girare un video, personale, visto che la candidatura sarà singola e non possibile per più persone, che sia assolutamente inedito. Non saranno ammessi al concorso clip contenenti spezzoni di concerto o immagini di repertorio, insomma, siate originali e date sfogo alla vostra fantasia per colpire la redazione del Blasco Fan Club. Ultima clausola, il video dovrà essere girato tra il giorno 1 e 8 di ottobre e consegnato entro quest'ultima data. Chi riuscirà a ottenere il tanto ambito passe e a trascorrere un lungo pomeriggio insieme al proprio idolo della musica italiana? Telecamere in spalla e buona fortuna a tutti. Ciao!